Picchiava la compagna quando lei si rifiutava di dargli i soldi per l'acquisto di stupefacenti, una storia drammatica e di violenza che arriva da Barletta dove gli agenti del commissariato locale hanno arrestato e portato in carcere un quarantenne barlettano. L'ultimo episodio di violenza è accaduto a fine febbraio scorso quando la donna, coetanea dell'uomo, stanca di subire quelle vessazioni si è allontanata da casa chiedendo aiuto ai numeri di emergenza. La vittima è stata soccorsa dagli agenti del commissariato di Barletta che l'hanno prima accompagnata al pronto soccorso dove ha ricevuto le cure per le lesioni riportate. Subito dopo sono stati attivati il centro antiviolenza e i servizi sociali del comune di Barletta. Le indagini scaturite dalla denuncia della donna coordinate dalla procura della Repubblica di Trani hanno fatto emergere un quadro drammatico. Secondo quanto ricostruito infatti la donna subiva quegli atti di violenza e gli insulti da almeno dieci anni, principalmente quando l'indagato non riusciva ad ottenere da lei il denaro destinato all'acquisto di sostanze stupefacenti. Terminati gli accertamenti necessari per il quarantenne, Barlettano è scattato l'arresto così come previsto dalla legge denominata Codice Rosso.